Restituito alla città e secondo me e secondo noi restituito al meglio, cioè non soltanto riconsegnato al centro ma messo al centro di strategie formative e culturali, non solo formative, grazie alla collaborazione con l'Università di Siena che sempre di più è strategica per questa città. Riapre e torna ad animarsi la storica palazzina delle Logge del Grano che ospita adesso le attività didattiche dell'Università di Siena, sede di Arezzo. La struttura che si sviluppa su due piani concessa e incomodato d'uso gratuito all'Ateneo dal Comune di Arezzo è stata modernata con l'allestimento di spazi adeguati alle lezioni e un open space dove gli studenti possono soffermarsi a studiare. Una sala come vedete molto bella, molto spaziosa, molto accogliente, quindi facciamo senz'altro lezione per i nostri studenti anche perché in questo momento il nostro campus è per metà ristrutturazione e dovremo finire i lavori e riavere tutte le palazzine in funzione nel secondo semestre. Quindi ci facciamo lezioni di lingue, di formazione, delle lauree magistrali, però poi abbiamo in programma una serie di iniziative in collaborazione con enti e associazioni locali, quella di oggi è la prima, poi ci sarà un seminario di orientamento finanziato dalla Regione Toscana in collaborazione con il Comune ai primi di dicembre, poi ci sarà uno spettacolo di un'associazione che ha vinto un bando del Comune anche qui ai primi di dicembre, insomma le idee sono tante, master, spettacoli, seminari di dottorato. Questo era un obiettivo che dal 2015 insieme al Sindaco Ghinelli abbiamo, cioè quello di essere una città europea anche in questo, cioè quello di avere dentro le nostre strade, dentro i nostri palazzi, nel pieno centro, nel cuore della città, esperienze ed espressioni formative legate all'università e alla ricerca. Qui siamo a quattro passi, forse cinque, dalla palazzina della ex Casa delle Culture che da tempo ospita corsi di laurea, qui siamo dentro l'ex Mercato, non a molta distanza c'è il palazzo di Via Pellicceria che comunque è disponibile all'università per dei seminari, oltre ad ospitare l'università dell'età libera, che è un'altra cosa ma fa sempre parte di quella grande idea che la cultura è coesione sociale, quindi il Pionta cresce, si allarga in un'idea che vede l'università al centro della città, non soltanto in termini strategici ma vi verrebbe da dire anche geografici.